Ho sempre sostenuto che questo è un governo di ignoranti, tanta ignoranza in Parlamento, nei ministeri, insomma parliamo di un livello culturale bassissimo. Basti considerare che Luigi Di Maio, universitario fuoricorso a vita, vendeva le bibite al San Paolo, faceva lo steward con tutto il rispetto, massimo rispetto per chi si guadagna il pane onestamente, ma per uno che come Di Maio, che ha lavorato sì e no e si è inventato mestieri dell'ultimo ora e fa il ministro del lavoro, questo la dice lunga appunto sullo spessore culturale di questo governo. Sono ignoranti questi nostri rappresentanti, in particolar modo i pentastellati e anche pericolosi. Perché? Perché c'è un emendamento voluto dal Movimento 5 Stelle che cosa prevede? È assurdo, voi quando io vi dirò questo voi direte ma ho capito bene, ma abate impazzito. No, lo dice purtroppo l'emendamento che chi ha esercitato abusivamente certe professioni sanitarie, quindi le ha esercitate senza avere titolo, purché lo abbia fatto nell'arco di dieci anni per almeno 36 mesi, anche non continuativamente, può essere iscritto a particolari albi e può esercitare quella professione. Cioè, pensate un po', io non dico chiacchiere perché vi leggo testualmente, infatti si parla appunto di una sorta di condono, chiamiamolo così, per gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione. Quindi chi per almeno 36 mesi, per tre anni, diciamo, ha, negli ultimi dieci anni, nell'arco di dieci anni, ha fatto il disonesto perché ha esercitato una professione senza averne titolo, ora viene perdonato e viene iscritto all'albo. Cioè voi vi rendete conto, seppure ha un albo speciale, vi rendete conto che cosa significa? Significa che questa massa di ignoranti dei pentastellati ha voluto legalizzare l'illegalità. Cioè significa che se io, se io, tecnico della radiologia, ho buttato il sangue per studiare, per conseguire un titolo, ora arriva l'ultimo furbetto di turno che senza avere il titolo viene equiparato a me. Vi rendete conto? Cioè, da un lato non viene garantita la sicurezza e la preparazione professionale, perché noi stiamo equiparando una persona che ha un titolo, che ha studiato, che ha fatto un esame, la cui professionalità, le cui capacità sono state riconosciute, questa persona viene equiparata a un fannullone, a uno che non ha studiato e che non solo non ha studiato e non è preparato, ma è un disonesto, perché ha esercitato quella professione sine titolo. Questo è l'assurdo. Pensate, degli ignoranti, i 5 Stelle, che vogliono appunto così elevare chi appunto è ignorante come loro. Rendetevi conto di questo. In determinati settori sanitari avviene questa equiparazione di fatto. Io penso che si debba procedere, perché questa è chiaramente incostituzionale e infatti c'è tutta una serie di prese, di posizioni molto, ma molto dure. Infatti, per esempio, c'è l'Associazione Italiana Fisioterapisti che dichiara assisteremo al paradosso che chi ha lavorato come dipendente o autonomo, svolgendo attività riconducibili a quelle di una professione sanitaria, come il fisioterapista o altra professione, senza titoli di studio abilitanti all'esercizio, verrà iscritto in elenchi speciali, come vi ho detto, potendo così continuare ad esercitare abusivamente. E quindi questo vi fa capire chiaramente, come non lo sto dicendo io, ma sono gli stessi, così le stesse associazioni professionali che dicono un momentino, ma noi abbiamo dei titoli. Qui invece stiamo premiando appunto gli abusivi. E' idem, dicasi, da parte appunto dell'Associazione di Categoria, l'Ordine Professionale di Ostetricia, che è appunto la Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica, che rappresenta oltre 22.000 iscritti in Italia. Dichiara infatti, leggiamo con seria preoccupazione la notizia della sanatoria, fa sapere il sindacato, si rischia di creare una pericolosa breccia in un sistema che tutela e garantisce innanzitutto la salute pubblica dei cittadini. Sistema che rappresenta anche una sicurezza per le altre professioni sanitarie. Appartenere ad un albo non è appunto una semplice iscrizione, ma significa dover dimostrare al nostro sistema nazionale, quindi alla collettività tutta, di possedere una serie di requisiti. C'è un percorso formativo di base, una specializzazione nel settore sanitario, e quindi bisogna aver acquisito competenze e abilità e aver superato esami e prove. In pratica, ho detto, ci sono i dritti e ci sono i fessi. Ci sono coloro i quali hanno studiato, si sono specializzati e chi invece l'ha fatta franca. E non mi venisse a dire il Ministero del Lavoro che abbiamo fatto questo per tutelare quei lavoratori. E no, un momentino, una cosa è tutelare il lavoratore in difficoltà come categoria debole, è un conto, ma non il lavoratore abusivo. Non si può parlare di tutelare quei lavoratori che comunque a dire del governo hanno lavorato per un certo periodo, è però un momento, qui manca il requisito professionale. Cioè, una cosa è, ripeto, aiutare un lavoratore così, nella sua figura di lavoratore, ma non un furbetto, un illegale, un abusivo, un disonesto, perché poi chi esercita senza titoli è un disonesto. Ma questo è il governo pentastellato, il governo pentastellato e leghista, ripeto, ignoranti che aiutano gli ignoranti. Sono pericolosi. Cioè, questo governo, questi cinque stelle, sono davvero pericolosi, perché immaginate un po', voi vi mettete nelle mani, no? Di un fisioterapista che non ha titolo, e vi può spezzare un braccio, vi può creare un danno, danni a un legamento, ai muscoli. Quindi, ringraziate gli analfabeti a 5 stelle. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.